vediamo un po se è arrivato tutto intatto più che in settimana che aspetto sto pacco la scatola promette bene vediamo prima se c'è ragno c'è wow pure questo che bello questo coso il filo lungo 3 metri grande il microfono tattico come si chiama il video non lo so unboxing no il video di cosa chi canterà meglio charles ah il video che vorresti fare è carino ti va andato pure la pochetta adesso devo solo provarlo anche queste di solito io li vedo diversi che cosa vedi di questo magari neri di plastica non solo vedo di acciaio allora io ne ho tre di queste cose però è sempre buona per me madonna se pesa sta cosa vedere questo si mette qua guarda tu la posizione qui me lo aspettavo diversamente non so perché così il microfono si tiene così si tiene scusa o così però solitamente si mette così vabbè niente per fortuna è arrivato tutto a posto lo devo provarlo il cavo com'è ma vuoi lungo dai 3 metri ciao ciao